Sono quelle partite dove diciamo tutti, sono tre punti ma come se ne valessero sei. È stato importante non disunirci quando abbiamo incassato il gol. È stata veramente una doccia gelata, però la squadra ha continuato a lavorare come avevamo programmato la partita, l'hanno interpretata molto bene, siamo riusciti a creare moltissime palle gol, abbiamo tirato in porta tantissimo, mi sembra, sulle 28 volte, per cui segno che la squadra si è sciolta bene, è stata sempre compatta, sapeva quello che voleva, con determinazione, con sagacia e sono soddisfatto. Questo ci serve perché questi tre punti sono molto importanti perché adesso andremo su un campo difficilissimo come quello della Lazio, Lazio che sta attraversando un momento meraviglioso, gli riesce tutto, grandi giocatori, grandi gol, una squadra che anche fino all'ottantesimo gioca tranquilla, sicura, perché sa che prima o poi ti fa gol, per cui noi dobbiamo andare lì con la determinazione di fare una grande partita. È importante perché tutto il gioco del calcio si fonda sul gol, per questo a me piace andare direttamente dall'altra parte e non toccare troppo la palla, mi piace andare in verticale, creare situazioni da gol, perché le situazioni da gol danno entusiasmo alla squadra e al pubblico, il pubblico si carica. Per cui abbiamo fatto questo e dobbiamo continuare a farlo. Lo abbiamo fatto in tutte le mie partite, l'abbiamo fatta a Milano, dove non abbiamo fatto gol, ma l'idea è sempre quella, cercare di creare situazioni da gol per noi. Reggini è il simbolo di questo spogliatoio, perché non l'avevo mai fatto giocare, però quando l'ho chiamato si è fatto trovare presente, segno di grande professionalità, grande umiltà e grande attaccamento alla maglia della Sampdoria. Questi sono quei giocatori, simbolo che ogni spogliatoio deve avere. Grazie a tutti.